Saranno presto per strada, con una presenza costante nei quartieri, i vigili di prossimità istituiti ad Andria dalla Giunta Giorgino. Ne parliamo con l'assessore alla Polizia Locale, Pier Paolo Matera. Se ne parla da decenni ormai, ma finalmente si è arrivati ad una svolta finale. Ad Andria ci potrebbero essere davvero i vigili di prossimità? Sì, è il primo atto che ho inteso intraprendere con la condivisione del comandante e ovviamente dell'intera Giunta, per far partire dal primo settembre nella nostra città il cosiddetto vigile di prossimità, che nasce sostanzialmente da un'esigenza, che è l'esigenza che i cittadini abbiano la percezione diretta della presenza dei vigili urbani anche in quartieri periferici, cosa che adesso purtroppo non si verifica per tutta una serie di ragioni che stiamo smuovendo. La prima ragione è che il corpo va totalmente riorganizzato e quindi per andare incontro a questa esigenza dal primo settembre partirà un servizio che vedrà Andria divisa in zone e con zone che saranno presidiate attraverso vigili a piedi e non in macchina e che servirà insomma a creare un contatto diretto con i cittadini a fronte di molteplici esigenze che rinvengono sì dall'esigenza di sicurezza ma tanti altri piccoli gesti di inciviltà o semplici informazioni. Quindi la percezione di sicurezza deve essere diretta e questa è la cosa che vogliamo creare con questo nuovo servizio. Naturalmente il problema principale della riorganizzazione del servizio dei vigili urbani è quello che fa riferimento al numero del personale in servizio. È sufficiente per venire incontro a questa novità? Certamente sì perché attraverso una razionalizzazione dei servizi e anche attraverso una maggiore efficienza dei compiti a cui sono delegati si potrà liberare del personale che potrà essere idoneamente impiegato per questo servizio. Tenga conto anche che a breve partirà la ZDL e quindi i vigili non saranno più impegnati nel presidio dei varchi perché ci penserà il meccanismo automatico e quindi tutto questo ha consentito, razionalizzando tutto quanto e d'intesa con il comandante, l'avvio di questo servizio innovativo di cui se ne parla da decenni ma che certamente porterà dei contributi notevoli in termini di sicurezza per la cittadinanza.